gentili telespettatori buona giornata da oggi ci sono delle nuove regole vediamo che cosa cambia zone gialla arancione le regioni a rischio sicilia calabria i val d'aosta sono sotto i riflettori per i dati molto molto alti e così nell'italia del covid tra zone bianche gialle arancioni e rosse che per fortuna ancora non ci sono che cosa può cambiare il monitoraggio fatto dall'istituto superiore di sanità e il pre consiglio dei ministri con i nuovi dati definiranno il colore le regole e le restrizioni che ci saranno da subito cioè l'aumento dei contagi proprio per il diffondersi dalla variante omicron la zona gialla occupa gran parte dell'italia l'elenco del giallo è lunghissimo anche se il giallo non comporta nessun cambio per chi è vaccinato quindi per il 90 86 90 per cento secondo di quante dosi uno vuole calcolare non hanno restrizioni chi è in zona gialla lombardia lazio abruzzo toscana val d'aosta emilia romagna piemonte sicilia veneto friuli venezia ciulia marche liguria calabria la provincia autonoma di bolzano e la provincia autonoma di trento la genas l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dà delle indicazioni che fotografano la situazione e la realtà negli ospedali italiani i ricoveri in area non critica arrivano nel complesso al 27 per cento la soglia regionale per il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione è il 30 per cento di occupazione dei posti in medicina generale le terapie intensive sono occupate al 18 per cento a livello regionale si diventa arancioni quando la rianimazione arrivano al 20 per cento il quadro è completato da un'incidenza che non dovrebbe superare i 150 casi per centomila abitanti ma questo limite è stato non superato ma ampiamente superato già da diverso tempo a fine mese almeno una regione su tre un terzo dell'italia potrebbe diventare di colore arancione subito vediamo ad esempio la val d'aosta che nei reparti ordinari al 54 per cento di occupazione e 21 per cento in terapia intensiva quindi i dati sono già da arancione la calabria che rischia a il 39 per cento nei ricoveri nei reparti ma scende al 17 per cento nella rianimazione e comunque potrebbe evitare la retrocessione c'è anche la sicilia che ha dei dati molto vicini al limite il fuori di venezia giulia sorpassa questi limiti nei reparti ma dovrebbe rimanere in zona gialla per le terapie intensive stesso discorso per la regione liguria e per la regione lombardia anche la regione lazio si salva per adesso nonostante le ti terapie intensive sono oltre il limite i dati lasciano respirare il veneto per ora i dati ci dicono che non saremmo arancioni dice il presidente della regione luca zaia che aggiunge l'indice rt ea 1,34 il tasso di occupazione delle terapie intensive al 20 per cento quindi siamo arrivati alla soglia per il passaggio in zona arancione dice il presidente di regione se il tasso di occupazione cala ci fa respirare al 20 per cento siamo da zona arancione dice in area medica il tasso è al 25 per cento ci mancano 5 punti se il trend è questo si arriva al 30 per cento in una settimana l'incidenza addirittura è a 2238,8 casi su 100.000 abitanti un valore assolutamente record e la variante omicron è al 65,9 per cento in veneto di prevalenza tra dieci giorni tutto sarà omicron in veneto un modello che ci dà il picco dei contagi il 23 di gennaio proprio fra dieci giorni e quello dei ricoveri il 12 di febbraio beh insomma nel bollettino degli ultimi due giorni i ricoveri in terapia intensiva hanno fatto segnare un giorno meno 8 e l'altro giorno meno 1 quindi in due giorni meno 9 persone ricoverate in terapia intensiva in tutta italia sono dati assolutamente in controtendenza e positivi molti più contagi e meno persone in terapia intensiva questo è l'importante più che il numero dei contagi pertanto il cambio di colore delle regioni è legato assolutamente ai dati e i numeri delle ospedalizzazioni nelle varie regioni italiane così la definizione poi di caso covid ha un impatto anche sul numero dei ricoverati questo ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato proprio nei video precedenti il fatto di le regioni chiedono tutte all'unisono di conteggiare i malati covid che quando sono persone che entrano in ospedale perché hanno sintomi da covid non persone che entrano per un'altra cosa poi gli fanno il test guarda che sei positivo asintomatico caspita non me ne ero mai accorto ecco quel malato lì che entra per un'altra cosa diventa improvvisamente un malato covid in realtà è entrato in ospedale per un'altra patologia ecco le regioni chiedono di modificare e conteggiare solo quelli che arrivano con sintomi da covid in ospedale non con altre cose intanto questo è quello che quello che sta succedendo e comunque sia i dati si possono vedere anche in maniera positiva soprattutto per la riduzione delle terapie intensive intanto per esempio vediamo che chi ha il numero più alto di percentuale delle ricoverati in area non critica è appunto adesso ve lo dico sto guardando è la val d'aosta con il 54 per cento seguito poi dal con il 39 per cento dalla calabria mentre nelle terapie intensive chi ha l'occupazione più più alta è proprio due sono due regioni è il piemonte col 23 per cento no scusate non avevo visto la provincia autonoma di trento con il 28 piemonte 23 per cento marche 23 per cento friuli venezia giulia 23 per cento queste sono le terapie intensive diciamo dove ci sono più persone nelle varie regioni io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su tele italia c'è poi anche l'altro canale che si chiama tele italia seconda rete dove ci sono video di notizie e non solo mentre poi nella pagina di facebook che si chiama tele italia questi video sono condivisi dopo qualche ora così se vi sono interessati li potete condividere con chi volete i miei video sono assolutamente condivisibili li potete utilizzare per quello che volete non c'è nessun problema di diritto d'autore arrivederci grazie